E parliamo adesso dei lavoratori del trasporto pubblico che hanno indetto per lunedì 16 uno sciopero generale per protestare contro le pessime condizioni in cui versa il comparto. Vediamo. La protesta degli autoferrotrambieri, che lamentano delle pessime condizioni in cui riversa il trasporto pubblico molisano, non si placano ed anzi intendono proseguire, per culminare in uno sciopero generale indetto per lunedì 16 dicembre. A peggiorare la precaria situazione dei trasporti locali e ad avvampare il fuoco della protesta c'è anche la questione retributiva, giudicata dai manifestanti altrettanto pessima. In questo scenario la politica, secondo i sindacati che hanno indetto lo sciopero, non è ancora riuscita a produrre provvedimenti concreti ed immediati in grado di porre rimedio ad una situazione divenuta ormai insostenibile. Non sono bastati nemmeno gli annunci della regione, come quello del rinnovo del parco autobus, a far desistere i lavoratori dallo scendere in piazza, che giudicano come mero fumo negli occhi i proclami dell'ente territoriale. Gli autobus operanti sul territorio, fanno sapere i sindacati, sono tra i più vecchi d'Italia. Il 74% infatti ha un'anzianità superiore ai 13 anni, una situazione che non possono risolvere le 29 imprese del settore, che si trovano già in una condizione di sfruttamento del personale e che negli anni hanno offerto alla collettività un servizio a dir poco indecente. Noi non ci stiamo e non siamo disposti a fermare la protesta, tornano dunque i lavoratori, che, pur garantendo le fasce orarie di garanzia, incroceranno le braccia il 16 dicembre.